Dottor Desiderio, allora CRT sempre di più punto di riferimento per l'area vasta ma non solo? No, ma proprio così. Intanto CRT va detto è il primo centro di area vasta. Questo ha già un ruolo per tutta l'area vasta, questo centro, sin dal 2005-2010. Il che è significativo. Oggi a 5 anni di distanza da questo avvio osserviamo un centro che ha un altissimo indice di copertura per tutta l'area vasta in più ha una forte attrazione da tutte le regioni intorno, soprattutto dal Lazio per vicinanza e prossimità e poi un centro che è inserito nella rete dei trias di ricerca nazionali ed internazionali. Insomma, un centro che grazie ai professionisti, non è grazie al manager, sinceramente qui va detto grazie ai professionisti che hanno saputo, come dire, giorno dopo giorno paziente più paziente mettere il meglio. L'ho fatto un giro, abbiamo visto, i professionisti neanche si girano a guardare la stampa o il meglio sono chini sul paziente. Questo è il miglior segno del successo.